Auto in the Box è la piattaforma che mette in contatto chiunque voglia affittare il proprio box auto con tutti coloro che sono alla ricerca di un parcheggio anche solo per qualche ora. La nostra innovazione è consentire la gestione totalmente automatizzata degli accessi ai box auto. Questo vuol dire nessuna attività manuale richiesta per gli host che affittano e una completa gestione in autonomia da parte dei driver che usufruiscono dei box pronotati tramite la nostra applicazione. Sostenere lo sviluppo e il lancio sul mercato delle più promettenti start-up digitali della Toscana. Questo è l'obiettivo del programma Hubble, arrivato alla sua ottava edizione che nasce dalla collaborazione fra la Fondazione Gere Firenze, la Fondazione per la ricerca e l'innovazione dell'Ateneo di Firenze e lo start-up studio Nana Bianca. L'Invex ha un'applicazione dove gli utenti possono acquistare bottiglie di vino pregiato, monitorare il loro andamento sul mercato e andare a creare la propria cantina virtuale. L'iniziativa ha fatto il punto sui risultati del programma e del suo impatto sul territorio dal 2017 ad oggi. Un programma che si è rivelato uno degli strumenti più efficaci per dare opportunità di lavoro ai giovani nei settori delle nuove tecnologie e ha permesso alle imprese selezionate quest'anno di presentarsi descrivendo la loro attività e le loro idee innovative. Siamo al settimo anno, come sempre le cose che funzionano si cerca di farle andare avanti, oggi verranno presentate otto nuove iniziative e sono convinto che tutte ce la faranno, tutte sono buone idee, le persone sono state selezionate perché hanno non soltanto buone idee ma anche voglia di fare.